ciao a tutti oggi vedremo le opzioni del pivot point il pivot point è un punto nello spazio attorno al quale tutte le trasformazioni avvengono in questo esempio questo oggetto ha il pivot point qui è indicato da questo puntino giallo infatti se proverò a ruotare questo oggetto la sua rotazione avverrà intorno a questo punto per spostare il pivot point in un altro punto dell'oggetto bisogna andare in option e alla voce affect only spuntare origins una volta fatto questo possiamo spostare il pivot dove più ci interessa o dove comunque è più conveniente quindi in questo caso se sposterò il pivot point più in alto vedrete che le trasformazioni avverranno a partire da questo punto roterò la sedia e la rotazione avverrà da questo punto se ora con shift d faccio una copia di questo oggetto e con shift tasto sinistro seleziono l'altro oggetto vedremo che il pivot point o il centro dove avvengono le trasformazioni si troverà proprio a metà tra questi due oggetti questo perché qui nel transform pivot point è settata l'opzione median point se invece proverò a fare altre copie di questo oggetto più ravvicinate e quindi oggetti che si trovano più ravvicinati in questa zona e li selezionerò vedrete che avverrà una media e il punto di trasformazione si troverà più vicino agli oggetti che sono più vicini mentre l'altra opzione è l'opzione bounding box center e in questo caso il punto di trasformazione si troverà qui perché dovete immaginare un rettangolo che copre tutta quest'area e questo rettangolo è appunto il bounding box che si è venuto a formare grazie alla selezione che abbiamo effettuato quindi se ad esempio io selezionavo o meglio se in questo caso seleziono questi due oggetti il bounding box sarà quest'area qui se invece seleziono questi tre oggetti qua il bounding box sarà quest'area qui e infatti vedete che il punto di trasformazione si trova proprio al centro di questo rettangolo immaginario la prossima opzione è invece il 3d cursor selezionando il 3d cursor le trasformazioni avverranno attorno al punto al 3d cursor quindi se sposto con shift tasto destro il 3d cursor ad esempio qui possiamo vedere che la rotazione avverrà intorno al 3d cursor posso spostarlo qui e la rotazione avverrà in base a quel punto questo è comodo anche quando ad esempio si devono spostare al volo un gruppo di oggetti intorno ad un punto scelgo il punto e sposto ruoto scalo gli oggetti in base a quel punto l'altra opzione è invece individual origins e questa opzione torna utile quando ad esempio dobbiamo selezionare più oggetti e ruotarli intorno al proprio al proprio origine intorno praticamente a questo punto questi punti che vedete qui infatti se provo ad esempio a ruotare questi oggetti su z vedete che ruoteranno tutti intorno al proprio origine posso cambiare l'orientamento da global a local e in questo caso le trasformazioni avverranno in base agli assi agli assi praticamente locali dell'oggetto qui non lo apprezziamo bene in questo esempio ma basterà ruotare un po questi oggetti e vediamo che l'orientamento impostato sul local ci permetterà di selezionare questi oggetti e di ruotarli lungo i loro assi locali quindi ruotiamo su x ruotiamo su y e questa è l'opzione individual origins passiamo invece all'opzione active element questa opzione ci permetterà di selezionare l'oggetto attivo e di fare avvenire le trasformazioni attorno a quell'oggetto quindi se adesso io ruoterò questi questi oggetti la rotazione avverrà vedete in base all'oggetto attivo questo vale anche per l'edit mode infatti se entro in edit mode e seleziono un vertice come attivo vedete in questo caso il vertice bianco e provo a ruotare questa questo oggetto la rotazione avverrà intorno a quel punto attivo ricordo che per rendere un oggetto attivo basterà selezionarlo come ultimo quindi in una selezione di questo tipo questo oggetto sarà l'oggetto attivo e me ne renderò conto perché avrà un contorno arancione chiaro a differenza degli ultimi due che sono selezionati ma non sono attivi avranno un contorno arancione questo è tutto spero che il video sia stato utile e vi sia piaciuto se così mettete un bel like o iscrivetevi al canale e inoltre questa sedia che vedete che è stata usata per come esempio potete scaricarla per qualche dollaro sul mio store su blender market nel link troverete il link in descrizione grazie ragazzi ciao e alla prossima